In provincia di Como si contano 401 episodi di estorsioni dal 2008 al 2014, incendi, colpi di pistola o di fucile, danneggiamenti, minacce, avvertimenti. I dati sono stati diffusi ieri sera nel corso di un convegno sulla presenza della criminalità organizzata nelle attività economiche e produttive allestito nella sede di un'industria Como dall'Ordine degli Avvocati e dal gruppo Cronisti Como. Il pubblico ministero Alessandra Dolci, in forze alla direzione distrettuale antimafia di Milano, ha descritto puntualmente il fenomeno mafioso, fornendo il dettaglio degli episodi di estorsione in provincia di Como, così come sono stati raccolti e catalogati nella banca dati della DDA. Dal 2008 al 2014, come anticipato, si contano 401 episodi di estorsione, tra i quali spiccano gli incendi, 270, e i colpi di arma da fuoco, 43. E ancora 19 buste con proiettili, 17 auto danneggiate, 16 minacce telefoniche. C'è poi un singolo episodio che di certo non fa statistica, ma che va sottolineato per la violenza e la brutalità del messaggio di avvertimento. A un imprenditore è stata recapitata una testa di maiale con un proiettile in bocca. Che Illario fosse terreno fertile per la criminalità organizzata non era una novità, ma la profondità delle radici dell'andrangheta sul territorio viene confermata da questi numeri, così come dalla cronaca recente. Proprio la DDA di Milano, nelle scorse settimane, con l'operazione Insubria, ha assestato un duro colpo alla mafia di stampo calabrese. 38 ordinanze di custodia cautelari, 35 delle quali in carcere. Nel mirino degli inquirenti, che per la prima volta hanno documentato i rituali di affiliazione, sono finiti i locali, ossia le cellule di indrangheta di Finomornasco e Cermenate.